benvenuti ad horror house sono qui per mostrarvi una casa che cela inquietanti misteri sta a voi scovarli ebbene iniziamo dall'esterno della casa per poi spostarci sul retro a vedere la serra che osserveremo con calma dopo entriamo appena entrati possiamo notare delle impronte insanguinate sul pavimento per poi osservare una splendida cucina nella quale cucinare cibi naturalmente l'entrata principale e distrutta quasi come se qualcosa fosse entrato sarà stato probabilmente un orso la camera da letto un posto perfetto per fare incubi ed in più ha una bellissima vista su una centrale elettrica che passa proprio sopra la casa assolutamente sicura credo il bagno pulito e leggermente insanguinato chi non vorrebbe farsi un bel bagno in questa vasca? la piscina dove non vi è assolutamente affogato nessuno l'ocandina di un documentario di un film su una mucca diabolica al di sotto una scrivania con il computer del precedente proprietario con ancora il suo romanzo non del tutto finito si intitola sono il lupo cattivo dolby surround e televisione con a fianco i trofei di caccia si può osservare un esemplare di testa di wendigo e due salmoni canterini un dipinto maledetto un pendolo maledetto bar sotterraneo con tanto di biliardo collezione di film dell'orrore samurai assassino vendetta metamorfosi e la vita di uno youtuber parlando della serra splendide piante e mandragore fiori velenosi fiori velenosi e una splendida vista su... una cisterna che potrebbe esplodere da un momento all'altro atti conbreggiante tetto non molto sicuro accanto alla casa una zona radioattiva con tanto di gulferali come vicini e per finire una splendida vista sul lago dove ogni venerdì 13 rimerge un assassino armato di macete allora che mi dite? avete ancora intenzione di comprarla?